Torna la vittoria all'Unibasket, lo fa superando nettamente il Pisaurum nella gara valevole per il secondo turno di andata del campionato di Serie C Gold nazionale. Eloquente 67 a 52, successo mai in discussione, quello dei ragazzi di Coci di Tommaso che hanno dominato fin dalle prime battute l'insidiosa compagine ospite. Di grandissimo livello la prestazione dei veterani Munich 18 punti, 11 assist e 26 di valutazione, ancora Gian Domenico Ucci 18 punti, 11 assist e 19 di valutazione che insieme a Capitan Ranitovic si sono dimostrati decisivi per il successo. Di spessore comunque il contributo offerto alla causa da parte di Montanari che ha portato energia e rimbalzi alla causa rossonera, oltre che di Costantin da Bangata fondamentale con il suo atletismo e di Serafin Kadindi sugli scudi con una spettacolare stoppata. Successo prezioso quello del Lanciano anche per la classifica perché il più 15 maturato permette di recuperare il meno 10 patito all'andata e di risultare quindi in vantaggio con i pesaresi per quello che riguarda gli scontri diretti. Lancianese in vantaggio dall'inizio alla fine, questi parziali 20-11, 20-12, 15-19, 12-10. Le parole di Coci Fabio Di Tommaso. Siamo stati avanti nel punteggio dall'inizio, dalla palla 2, diciamo che abbiamo meritato questa vittoria, abbiamo giocato, secondo me, a tratti anche bene, trovando buoni tiri in attacco, stiamo trovando l'uomo libero, correndo anche molto in contropiede, provando a giocare sui nostri ritmi, quella cosa che ci piace tanto. Poi, come tutte le partite, alla fine nessuno ti regala niente, quindi i vantaggi che hai li devi prendere, li devi mantenere perché alla fine ci sono anche gli avversari che sono ostici, lo sapevamo, quindi bene, sono contento anche per questo perché abbiamo vinto contro una squadra molto rognosa, molto difficile da affrontare perché aggredisce, pressa, poi ha giocatori che tirano a tre punti, quindi diciamo che sono contento anche per come abbiamo mantenuto sempre l'uscita anche nei momenti importanti.